salve a tutti madame messeri benvenuti a una nuova puntata qui sul canale spero stiate bene e sia tutto a posto come ogni martedì iniziamo benissimo come ogni martedì e venerdì ore 19 30 italiane trovate un nuovo video sul canale il video di oggi fa parte della rubrica che voi amate perché siete masochisti avete anche voi problemi se seguite me ovvero domande del che risposte di me ovvero voi mi fate domande io rispondo settimana prossima andrei in onda invece la seconda parte della turchia sulla turchia se vi siete persi la prima parte la trovate o qui o qui comunque sopra nelle schede perché ogni volta mi sbaglio indico una parte per l'altra quindi trovate la prima parte qui nelle schede settimana prossima martedì prossimo troverete la seconda parte sulla turchia qualora volete voleste lasciare qualche domanda lasciatela nella sezione commenti e verrà risposta nei tempi biblici ma verrà risposta allora con l'aiuto di computer passiamo alla disamina delle domande solo per una di esse mi sono mi sono preparata quindi per chi di voi come eli che mi chiede il get ready with me get ready with me lo farò abbiate pazienza mi sto organizzando tecnicamente come farlo e cercherò di farlo con i prodotti un po datati o preferite le ultime novità fatemi sapere questo e continuate a farmi le domande come ha fatto laura che mi chiede vorrei sapere di ciascun prodotto make up correttore fonda tinta eccetera il tuo preferito in assoluto allora io ho fatto diversi video dei preferiti soprattutto ti rimando al video del dei preferiti del 2019 che ti posto qui perché non ti ripeto di nuovo non li ripeto di nuovo qui perché sarebbe una cosa ripetitiva tuttavia no non è pure una virus non per non per il momento vi faccio vedere alcuni prodotti che uso su base più o meno regolare e che mi piacciono tantissimo tutti questi non sono stati usati per trucco di oggi però ad esempio vi faccio vedere sono pochi pezzi ma scelti bene a criterio questa che mi è stata regalata dalla eluisa che saluto ovvero la matita fili crudi che è diventata piccolissima di neve cosmetics questa matita mi piace tantissimo una pastello occhi che ha un color melanzana io sarei no sarei mi piace definirlo così non lo so come la definisce neve ovvero di un viola molto scuro intenso che sembra nero tuttavia da una canzionanza particolare che da un effetto molto molto bello molto bello come direbbe cardo da perdone penso di sì sui miei occhi e mi sa che solo questa forse utilizzata utilizzata per il trucco di oggi e mi piace tanto che ne ho ordinato altri due che il fratello mi regalerà per il compleanno quindi è un piccolo spoiler di cosa vedrete nella seconda parte dei miei regali di compleanno se vi siete persi la bima ve lo metto sempre qui nelle schede sembro il tergicristalli ma non è così quindi la fili crudi e tuttavia faccio una domanda eloisa faccio io le domande a voi perché lei mi regalò c'è un ricordo legato a questa matita lei me la regalò nel momento in cui venne qua a londra mi sa un paio di anni fa e mi disse prova questa matita che è un bellissimo colore però a me fa un difetto e mi chiedo domando e chiedo visto che a me è piaciuta tantissimo il difetto è casomai la caccola che ogni tanto si forma all'interno dell'occhio fammi sapere perché glielo potrei chiedere in privato però può condividere la sua esperienza qui con voi e farmi sapere qual è stato il suo problema altro con la matita quindi fili crudi di nivel cosmetics altro prodotto che mi piace chi che per esso chiunque mi chieda delle palette occhi abbastanza funzionali io consiglio queste le prime uscite delle delle obsession di huda beauty e questa è la warm brown che ha viene anche con lo specchio tra l'altro sono nuovi colori e si possono fare tutta una serie di trucchi in questo in particolare in questo no code in questa palette abbiamo solo un colore shimmer gli altri sono sono tutto appunto come dice il nome delle tonalità del del marrone caldo e si possono fare fare va fare vari dirvi di trucchi vari combinazioni quindi questa è una delle mie preferite soprattutto in due in viaggio sono molto molto funzionali e utili poi altro prodotto che uso tantissimo è questo di tom ford che costa direbbero gli inglesi e arm and leg un braccio una gamba costa un polmone diremmo noi noi cambiamo gli organi in italia è della linea permanente e penso sia ancora in produzione nel color naked bronze e fa parte dei cream and powder ai color di tom ford che viene packaging lussuosissimo però questo di sott'è plastica è abbastanza utilizzato come vedete un altro non è che un bel bronzo in crema al quale si può sovrapporre la parte shimmer vi faccio anche lo swatch ma si facciamo lo swatch perché sto per fare lo swatch non lo so in molto molto clemuso spero che di non aver rotto lo specchio sette anni di guai non fanno per me no lo specchio non si è rotto meno male comunque questo è il colore ed è un prodotto che sfrutto tantissimo perché lo posso usare comunque on the go per fare appunto uno smokey molto molto on the go per dirvi quando sono di fretta quando me sto all'arma perché io perdo tantissimo tempo metto questo sul tutta la palpebra e poi la parte shimmer è opzionale la pasta e shimmer fanno poco schifo però vi dà un effetto molto molto cangiante al all'ombretto di base cioè la parte sopra non è niente di straordinario però crea una certa luminosità del prodotto che potete vedere non vedere si va state vedendo e devo prendere la pezzolina adesso annaccia tutto poi per lo stesso principio fondamentale di del naked broad di tom ford altro prodotto che posso usare sempre quando sono di fretta è il constructivist di mac questo è un pot uno dei pain pot di mac stesso concetto ombretti in crema che possono essere utilizzati sia come base sia da soli sempre lo stesso concetto che vi fate uno smokey eye molto molto veloce se potete volete un get ready with me si può fare anche con questo ma davvero il get ready with me dei poveracci questo ha una tonalità marrone più fredda ed è fantastico come base per applicare altri ombretti sempre della stessa gamma cromatica per fare uno smokey eye da solo eccetera eccetera altro ombretto di mac che chi basica il mio canale conosce benissimo e land uninterrupted che fa parte della linea pro long where si ascedo prima era rivenduto solo nei pro store di mac adesso penso che sia sia reperibile anche negli store regolari altro non è che un ombretto che alcune persone utilizzano anche per il contouring io ho mai utilizzato di per sé ed ha un effetto molto molto bello molto molto bello è questo colore terra bruciata fa un effetto bellissimo sui miei occhi lo uso anche da solo con un poco di ombretto più scuro nella piega per creare un effetto smokey molto 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 carino l'effetto simile a quello che ho fatto oggi ma anche in questo caso non l'ho usato per il trucco di oggi per il trucco di oggi nei prossimi video capirete che prodotto è questo sui miei occhietti poi vi faccio vedere anche altri tre prodotti viso che mi piacciono tantissimo quindi tutto sta domanda tutto sto video per questa domanda di chi me l'ha fatta madonna mia per la domanda di laura vabbè l'alzheimer è galoppante come bronzer vi faccio vedere questo del tuo face che avete visto anche nel video dei preferiti che si chiama sui t da quando l'ho comprato lo dovevo mettere il cassetto altrimenti userei solo lui mi piace al pari merito di quello della fisica formula è un po più carico a livello cromatico della di quello della fisica formula in realtà viene diviso in due parti una parte più chiara una parte più scura ma io mix o entrambe in realtà quando andai al monomarca di to face mi fu sconsigliato questo bronzer perché è reputato troppo scuro per la mia canna regione io me ne sono rubato dal cazzo e l'ho comprato e mi è piaciuto e mi piace tantissimo sempre di to face il mio si può dire blush preferito anche questo che devo mettere nel cassetto altrimenti userei solo e soltanto lui per farvi vedere in che condizioni siamo e il papa don peach della stessa marca di to face che è questo color ricorda un poco il il coralista di benefit e questo corallo rosa molto luminoso che non si vede niente però andate su google google immagini è vostro amico questo qui tra l'altro non ho capito perché la grana del del prodotto non so se riusciate a percepirlo è così adesso si è un po come la ma faccia adesso ovvero ci sono tutta una serie di imperfezioni perché nel mio caso nel caso della mia faccia qualcosa che ho ingerito non qualcosa che applicata a livello topico qualcosa che ingerito mi ha fatto allergia e questa è una reazione allergica non ho capito ancora che cosa invece qui la reazione allergica del brush non so che cosa è dovuto avete queste pagliuzze che comunque quando prelevate il prodotto non danno fastidio perché il prodotto ha una buona stesura uniforme eccetera eccetera altro prodotto che vi faccio vedere questo è proprio una memorabilia questo è uno dei miei blush preferiti dei miei preferiti che ha cambiato formulazione non lo trovate più comunque di questo colore è il dallas di benefit che hanno riformulato ha cambiato colore e nei prossimi video vi farò vedere anche la differenza tra la nuova formulazione e la vecchia basta sei contenta laura non ti ho fatto vedere tutti tutti i prodotti miei preferiti però alcuni che forse alcuni di voi conoscevano si altri poi alice mi chiede se ci sono hobby passioni di cui non siamo a conoscenza le migliori serie tv e film di sempre per te che cos'è che ti ricorda che penso che lei volesse dire cos'è che ti ricordano l'infanzia all'ultimo non ho capito la domanda cosa mi ricorda l'infanzia non lo so però su proprio quel che concerne le serie tv e film ho avuto varie domande in questo senso ergo per alice che partecipa come sempre alle mie domande io rispondo alla domanda hobby e passioni hobby e passioni hobby sicuramente mi piace tantissimo la fotografia quindi per questo instagram mi piace tantissimo anche se non pubblico tantissimo sulla mia pagina e ci sono dei lavori in corso e dopo vi nelle prossime nelle prossime settimane vi farò partecipi di cosa sono questi lavori in corso altri hobby che oltre alla fotografia quindi mi piace tanto scrollare instagram pinterest per perché sono amante della fotografia mi piace la fotografia in varie forme non la fotografia paesaggistica mi piace la fotografia soprattutto del fashion mi piace tantissimo la moda e e che altro e l'arte nonché i film e quindi ci ricolleghiamo all'altra domanda che ha fatto anche elisa ciao serie di qualche serie tv tv quali sono le tue preferite del momento e le preferite in generale e in più c'è la mia amica maria una delle mie più carissime amiche che chiedeva in un altro video sempre se io ritornasse alla mia rubrica gocce du cinema che vi metto qui in info box per chi di voi si fosse persa qualche video al riguardo perché è proprio una mia pressione cinema l'ho studiato anche in all'università quindi una cosa di cui mi piace tantissimo parlare quindi prima di rispondervi vi chiedo vi interesserebbe eventualmente cercherò di organizzarmi in merito un appuntamento se non settimanale ogni due settimane un video extra per in cui parlo di film e serie tv perché lo farei a modo mio non le farei tanto sulle serie main streaming quindi rispondo un attimo a tutto allora la mia serie tv preferita è twin peaks di david lynch serie degli anni 90 ergo perché perché è una serie che è scritta divinamente bene io mi riferisco soprattutto alla prima serie di twin peaks e poi lì a scallare la terza serie ho iniziato a vederla non l'ho finita tuttavia la descrizione proprio dei personaggi in sé è qualcosa che è al di fuori proprio degli schemi delle serie televisive io considero twin peaks essere una serie di 12-13 puntate dovrebbe essere la prima serie come una serie di film a sé ed è fantastica ha raggiunto dei livelli altissimi poi risposta a questo vi dico che ultimamente c'è stata una serie che ho amato e che ho divorato in pochi in pochi in pochi giorni che si chiama afterlife di cui mi piacerebbe parlarvi e oltre a queste serie che mi sono piaciute breaking bad come serie drammatica e come serie comica modern family c'è da dire che io non sono una persona che segue tantissimo le serie televisive quindi da adesso in poi potete siete autorizzarvi a rimanere sballorditi ma non ho mai visto lost non ho mai visto game of thrones non ho proprio game of thrones come direbbe la mamma di maria e non mi interessa vedere penso che il campo lo stesso senza vedere game of thrones poiché altro lost non l'ho mai visto non ho mai visto completamente aumet your mother ma conosco quel filone aumet your mother fans big band theory ma non le ho mai finite perché appunto più che alle serie televisive mi deve interessare più che altro sono molto più interessata ai film se sono in compagnia si potrei seguire le serie televisive però da sola preferisco i film penso che ho risposto un po a tutti poi a come mi di mi chiede dimmi come ti come dove ti vedi nel futuro magari tra 15 anni e quali obiettivi vorresti realizzare e magari con il seno di oggi cosa diresti alla te di venti anni fa e cosa la te del futuro ora questa è una domanda molto profonda mi viene da piangere però per una serie di motivazioni ero una persona molto proiettata nel futuro nel mio passato poi per una serie di avvenimenti personali non non riesco a proiettarmi così tanto nel futuro certo ho una progettualità cerco di vedere me stessa tra un paio di anni tra cinque anni quello che ti so dire cerco anche di quindi ultimamente di godermi molto di più il presente mi sto godendo tantissimo e cerco di trarre tantissimo dai miei giorni in cui rimango a casa perché anche io sto lavorando di meno date alle circostanze e quindi se dovessi darti una risposta dove mi vedo tra 15 anni e troppo in là cosa spererei di avere una mia famiglia di essere realizzata e penso qualsiasi cosa che stia facendo io abbia successo che non significa successo fama ma proprio di avere successo nella mia vita come penso di avere successo adesso nel mio piccolo nelle mie cose e quindi essendo sempre più ecco mi auguro sempre più di essere presente a me stessa questo è la cosa che direi alla me del futuro e che direi anche alla me di 20 di 20 anni anche se tutto quello che ho fatto nel mio nel mio percorso nella di vita mi ha portato dove sono adesso quindi ci sono sempre le strade ci sono sempre diciamo tutti infiniti i mondi possibili di leibniz però sono contenta di tutte le scelte che ho fatto perché tutte le scelte mi hanno portato qui a parlare con voi quindi siete contente dalla risposta non lo so e poi la domanda di cristina pure interessante scusa mi sono preso un attimo una pausa per leggerla mi piacerebbe sapere se tu sia pro o contro al bocoltare certi brand a seguito di certi uscite infelice idee sbagliate del proprio owner per capisce il casino uscito con cat bondi dopo l'affermazione dove hax e se ti va di dire quali sono i brand che non supporti più allora questa rientra sempre nella cosa delle scelte e anche un po' con tutto il drama che c'è adesso in america eccetera eccetera con jeffrey startati compagnia cantante si c'è un brand in particolare che perché ho pur non conoscendola pur non avendoci avuta per fare ma mi sta sul cazzo lei proprio senza un motivo senza mai senza perché non nutrivo forte simpatia per la proprietaria di line crime perciò ho una certa ritrosia di nell'acquistare prodotti light in crime non dico che l'ho veramente boicottata perché un paio di cose mi sono state regalate ma mi sa proprio io mi medesima non ho mai comprato prodotti line crime perché la ex proprietaria ma sta ancora nel board del sio non è più il sio massa ancora nel boarding della compagnia non mi ha fatto mai comprare i loro prodotti per cat mondi anche l'uscita novax non è stata delle migliori non condivido io sono pro vaccinazione eccetera eccetera con qualche riserva ma tutte le vaccinazioni sono vaccinata sono vecchia scuola anzi essermi vaccinata per per determinate malattie me ne ha preservate dell'altro e per le altre no ma senza girovagare la situazione cat mondi compra ancora prodotti di cat mondi nonostante io non sia una novax comprerò ancora jeffree star sì perché dipende deve essere proprio qualcosa che il proprietario mi ha fatto indignare nello specifico oppure mi deve stare semplicemente sul cazzo ecco vado più su su antipatia e simpatia cosa penso del boicottare che per ottenere soprattutto da compagnie che dipendono ritorniamo sempre al discorso della scelta del video precedente con questo vi lascio perché se è fatta una certa noi abbiamo il potere di cambiare le cose attraverso le nostre azioni quindi se in massa non comprassimo più ad esempio brand che testano sugli animali la situazione verrebbe riprotetta sul non testare sugli animali altrimenti non comprano cioè li andate a ferire sulla tasca e quindi il boicottare serve sì ma deve essere fatto in massa deve essere fatto con una logica deve essere a quanto sentito la scelta appunto ho boicottato taran e line crime penso che più un boicottare perché lei mi stava allegramente sul cazzo e quindi ciao youtube censura mi invidio quindi penso di aver risposto alla domanda penso di sì ma per altre domande e quindi abbiamo finito fatemi sapere i vostri commenti e nuove domande come sempre lasciate tutto nella sezione commenti e noi ci vediamo alla prossima se il video ti è piaciuto e anche se so che a voi non piace se mi volete sopportare non sopportare sopportare piacete convividete fate quello che il vostro cuore desidera con la cu con la cu di cuoricione noi ci vediamo alla prossima un bacio e statemi bene ciao ciao ciao